Ad un paziente in posizione retta viene misurata all'altezza dei piedi una pressione sanguigna di 170 mm di mercurio. Si calcola il valore della pressione all'altezza del cuore se la distanza fra i piedi e il cuore è 1,2 metri. Densità del mercurio vale 15,59 grammi su cittadino al cubo e si consideri la densità del sangue pari a quella dell'acqua. Mi sono scritto i dati qui, è un problema che è stato assegnato all'esame della facoltà di ingegneria clinica e biomedica dell'Università della Sapienza di Roma il 1 febbraio del 2019, quindi abbastanza recente. Qui bisogna per effetto della forza della spinta dell'alchimede, vi ricordo che intendiamo con pressione idrostatica la forza esercitata dal fluido, in questo caso dal sangue, che è assimilabile, che ha una densità assimilabile a quella dell'acqua. 10 al cubo, per un ricordo, abbiamo parlato nei video di teoria, densità dell'acqua è un 10 alla terza chilogrammo su metro cubo, ma visto che ci danno, ci forniscono la densità del mercurio pari a 15,59 grammi su cittadino al cubo, vi ricordo che è 1,1 grammo su centimetro cubo, la densità dell'acqua, inteso come qui non ce lo dicono, ma ve lo dico io, acqua distillata ovviamente stiamo parlando, 1,0 grammi su centimetro cubo. Vi dicevo, la spinta idrostatica, P idrostatica, è pari al, e non è altro che la forza esercitata dal fluido, dalla sangue, in questo caso su un'unità di superficie, appunto, con la quale è a contatto, diciamo, normalmente, perpendicolare, no? Per effetto della spinta dell'archimede, vi ricordo che la pressione che viene esercitata, questa pressione che viene misurata ai piedi, di questa persona, quindi P ai piedi, che ho indicato come PP, inteso come piedi, di cui ci forniscono i valori in millimetri di mercurio, 170 millimetri di mercurio, è pari alla somma della pressione idrostatica più la pressione che si misura all'altezza del cuore, no? Quindi P idrostatica più P cuore, mettiamo così, così capiamo, no? Oh, la pressione idrostatica, noi, ce la possiamo calcolare, perché la pressione idrostatica non è difficile da calcolare, oh, tra l'altro, la pressione ai piedi ce la forniscono, come ripeto, attenzione alle unità di misure, i millimetri di mercurio. La pressione idrostatica, no? Non ce la danno, però la possiamo calcolare, perché per effetto della legge di Stevin, di Stevino, la pressione idrostatica, tenendo conto che qui non teniamo conto della P con 0 pressione atmosferica, è, ve lo ricordate chi è? È ρg per h, legge di Stevin, no? Quindi questo sarà uguale ρg per h, dove h rappresenta la distanza che intercorre tra piedi e cuore, di questa persona eretta, o di in piedi, strano, no? Più la pressione del cuore, quindi a noi che ci chiedono? Ci chiedono la densità, no, no, non la densità, ci chiedono l'A, boh, il valore della pressione all'altezza del cuore, quindi P cuore, questa è una facile equazione, chi è? Sarà P dei piedi, la pressione all'altezza dei piedi, meno ρg per h, dove ρ ovviamente si intende ρ, ce lo dicono, o dell'acqua, quindi attenzione, quindi occhio. Ora, andiamo a calcolarci un attimo la pressione idrostatica, qui ne abbiamo, guardate, uguale, 170 mm di mercurio, qui l'unico problema potrebbe essere rappresentato dal fatto che uno magari va a confondersi un po' con l'unità di misura, se non uno volesse confondersi qui, va semplicemente a, o riporta i valori secondo l'unità del sistema internazionale, o riporta i valori secondo il sistema CGS, potrebbe direttamente utilizzare il sistema CGS, visto che ci danno i mm di mercurio e i grammi su il centimetro cubo, però sappiate che qui potremmo scrivere che ρg per h, chi è ρg per h? Ovviamente ρ inteso ρ dell'acqua, ripeto, eh? Oh, ripeto, se dobbiamo usare i valori che conosciamo, dovremmo scrivere 10 al cubo chilogrammo su metro cubo, per no, ecco, e ci siamo. Qui ci mettiamo 9,81, 9,8 metri, secondo quadro, valore in modulo dell'accelerazione di gravità, e h è 1,2 metri. Vedete cosa otteniamo? Otteniamo esattamente il valore, l'avete riconosciuto? Del, del newton, otteniamo il newton su metro quadro, cioè otteniamo il newton su metro quadro che non è altro che il pascal. E se fate questo conto, ve lo dico subito, con una calcolatrice, ottenete, se fate questo conto, ottenete 11.772 newton su metro quadro, quindi pascal. Che non è che è sbagliato, però, dal momento che un pascal è 760 diviso 1,013 per 10 alla 5, che sarebbe diviso 1,013 per 10 alla 5, millimetri di mercurio, si ottiene in definitiva, cioè un pascal è 7, in pratica un pascal non è altro che 7,5 per 10 alla meno 3, millimetri di mercurio, 11.772 pascal, bisogna moltiplicarlo per 7,5 per 10 alla meno 3 millimetri di mercurio. Per ottenere in definitiva, quindi questo sarà 170 millimetri di mercurio, che raccogliamo al fattore comune, meno, viene circa 88, tutto millimetri di Hg. Quindi, ripeto, bisogna fare 700, una volta che abbiamo ottenuto il pascal, facciamo 760 diviso 1,013 per 10 alla 5 e otteniamo in pratica il valore di 7,5 per 10 alla meno 3 millimetri di mercurio. Se un pascal è 7,5 per 10 alla meno 3 millimetri di mercurio, 11.772 pascal lo dobbiamo moltiplicare per 7,5 per 10 alla meno 3 millimetri di mercurio, ovvero 88 millimetri di mercurio. Se fate questa differenza, ottenete 82 circa, quindi il valore della pressione all'altezza del cuore è 82 millimetri di mercurio. Ciao! Grazie.